Siamo arrivati, sappiamo che è una quadra veramente nuova, però non è una quadra che non si deve avere, non siete arrivati, c'è un bel mix tra l'Escenza e l'Escenza, si ritrova di una piazza dove, appunto, a lui è stato cercato da anni e anni di ritalire la china perché ha passato 10-15 anni di campionati sempre arrancati, però con dignità e orgoglio ce l'abbiamo sempre fatta, sia da parte nostra che da parte delle varie società. Infatti ringraziamo sempre e comunque le vecchie società. Noi vi chiediamo soltanto una cosa, di onorare questa società perché sta facendo milioni e milioni di sacrifici. Vi chiediamo amore per questa maglia, lo so che è più difficile innamorarvi subito, però con il nostro calore, con la nostra passione, sarà un bacco, perché comunque chi ci fa la vostra espressione di alzare, che è bene, che è normale, appunto, noi vi seguiamo bene. Cerchiamo di creare, fra noi e voi, non dico un rapporto di amicizia perché è una parola troppo grossa, ma un rapporto di fiducia. Noi lo spediamo sempre, fra voi, e voi entrare in campo con la passione che, appunto, vi contraddizia. Io vi auguro veramente buon lavoro, siamo molto contenti che voi avete fatto questa società. Ringraziamo ancora il Presidente, la nostra società, se vi facciamo un applauso. di Pantoria lotta col cuore, Vincere, vincere, vincere Vincere, vincere Vincere, vincere, vincere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.